Ciao! Ciao! Anche oggi, come quasi tutti i sabati, siamo venuti alla surf. Sì, siamo venuti a prendere un po' di cibo per i nostri coricini che camminano. Non abbiamo trovato dei vostri contributi. Va bene lo stesso, ma vi volevamo ricordare che i nostri coricini mangiano tutti tutti i giorni, nessuno escluso. Sì, perché hanno bisogno anche l'ora di mangiare come noi. Ci siamo addormentati un po', e poi niente. Ok, grazie, è lo stesso di tutto. Ah no, invece una cosa la volevamo dire. Non si abbia molto sprint oggi. Io stanotte non ho dormito, lo dico. Probabilmente quello. Comunque, volevamo ringraziare i pacchi che sono arrivati a casa. Ecco che ci eravamo dimenticati. La cosa più importante, perché ne arriva roba a casa e certe volte abbiamo tanti impegni, oppure che non c'è scritto il nome e non riusciamo a ringraziare. E a me ogni tanto arrivano dei messaggi su WhatsApp di qualcuno che mi dice, quando arriva me lo dici, ma poi siccome io non memorizzo il numero non riesco poi a ritrovare le persone. E quindi, con un grazie comunativo e un video che mostra i pacchi, noi speriamo che voi riusciate a riconoscervi. Mi sei ci spiegata la lì? Va bene, oggi è un giorno che va così. Perdonate. Va così, perdonateci se abbiamo sbagliato qualcosa o ci siamo dimenticati voi. Ok? Ciao a tutti. Ciao. Ciao.